Sarà un grande turno di campionato, sarà un weekend di calcio davvero molto entusiasmante, molto importante, un weekend lungo perché ci sarà anche il posticipo di Milan-Bologna, il posticipo che andrà a chiudere questo turno di campionato. Un turno di campionato davvero entusiasmante, ricco di grandi sfide, che potrebbe regalarci anche ricchi colpi di scena. Ci sarà Juventus-Inter, ci sarà Atalanta-Napoli e poi ci sarà il nostro Milan con l'imperativo di vincere, di allungare, di continuare a dimostrare di essere una squadra matura, pronta per vincere lo scudetto. Ricordiamo la classifica in breve, Milan primo con 66 punti, Napoli con 63, Inter con 60 con una partita in meno, la Juventus con 59 punti e poi l'Atalanta anche qui con 51 ma con una partita in meno. Un weekend, come dicevo prima, ricco di grandi sfide, entusiasmanti, ricche di colpi di scena ma che secondo noi di rubrica rossolera andrà a determinare quelli che potrebbero essere gli scenari finali. Andremo a vedere tra Juventus-Inter chi prevale, chi sarà la squadra probabilmente che metterà più pressione all'altra perché una vittoria eventualmente alla Juventus metterebbe un'ulteriore pressione all'Inter. Una vittoria dell'Inter sulla Juventus sarebbe anche una spinta psicologica importante in chiave scudetto. Vedremo Atalanta-Ju, Atalanta-Napoli, vedremo se l'Atalanta, consapevole di avere anche una parte in meno, farà risultato pieno contro il Napoli per riavvicinarsi, per riagguantare, in maniera per riavvicinarsi al quarto posto. E' chiaro che alla lunga tutte le partite sono importanti ma gli scontri di reti tra queste squadre hanno un peso specifico diverso. Abbiamo voluto fare un'analisi sulle prime attuali quattro in classifica, quindi Milan-Napoli-Inter-Juventus. Vediamo il Milan che nei big match contro le altre tre ha fatto 9 punti su 18, ha pareggiato contro la Juventus alla quarta giornata, ha pareggiato contro l'Inter alla dodicesima giornata, ha perso con il Napoli 1-0 la diciottesima giornata, ha pareggiato 0-0 con la Juventus, ha vinto il derby alla ventiquattresima e ha vinto a Napoli alla ventottesima. Quindi 9 punti su 18, il Napoli 8 punti su 18, registrando la vittoria contro la Juventus alla terza giornata, vincendo contro di noi alla diciottesima e pareggiando contro l'Inter, contro la Juventus e quindi ha dimostrazione di come il Napoli, di Luciano Spalletti, sia una squadra comunque cresciuta, maturata, ben allenata, anche se è un attore poco simpatico per molti, per molti detti lavori, ma è un attore sicuramente capace, capace di fare il suo, capace di raggiungere importanti risultati. L'Inter 6 punti su 15, ha pareggiato tante squadre, è andata un po' via via scemando la stagione dell'Inter, nelle ultime partite l'Inter è un po' arrancato, complice a qualche infortunio, complice anche a uno stato di fisico non ottimale della squadra di Simone Inzaghi, quindi 6 punti su 15, mentre la Juventus è la peggiore delle 4, solamente 4 punti collezionati su 15 a disposizione. Lo sappiamo, poi Allegri giustamente ha detto, tutte le partite sono importanti, l'importante è vincere le più partite possibili, da qui, dalla prima giornata alla 38esima, a prescindere che sia una partita con il Milan o con l'Inter o una partita con la Salernitana, giustamente poi bisogna essere pragmatici, ogni partita vale 3 punti, quindi tutte hanno un peso importante. Però, chiaro che un big match, anche in virtù di, magari, degli sconti detti a favore, o soprattutto di avere, comunque in caso di parità, avere la forza di aver vinto contro le altre, determina poi il successo o l'insuccesso. E quindi sarà un weekend di grande calcio, un weekend ricco di colpi di scena? Probabilmente. Potrebbe essere anche un weekend in cui il Milan potrebbe beneficiare di qualche punto perso dalle altre, e cercare di allungare questa striscia. Però ci concentriamo su di noi, ci concentriamo contro un avversario ostico, il Bologna, a cui facciamo, ovviamente, i migliori auguri a Sinisa di recuperare presso, di, in qualche modo, di lasciare questi brutti ricordi di ospedale, di malattia, il prima possibile. E sarà una partita difficile perché il Bologna, giustamente, vorrà vincere per il proprio mister, vorrà fare una partita gagliarda per dimostrare tutto il carattere che il loro allenatore, in questo momento, e negli scorsi anni ha dimostrato. Una squadra di carattere, mi aspetto, come il Bologna, ma mi aspetto un Milan altrettanto gagliardo, altrettanto motivato, determinato. E, ovviamente, staremo a vedere, sicuramente sarà, ovviamente, anche nostro interesse guardare il risultato delle altre, prima di analizzare quello che sarà la prestazione delle altre. Bisognerà anche sperare che le altre perdano punti a vicenda, magari con dei pareggi. Diciamo, la condizione di ottimo sarebbe un pareggio tra Inter e Juventus e una vittoria dell'Atalanta. Questa, probabilmente, secondo noi di rubrica rossinera, sarebbe la condizione di ottimo. Permetterebbe di allungare sull'Inter, sulla Juventus e sul stesso Napoli. Napoli, che, secondo me, è veramente l'avversario quest'anno in più da battere, perché è una squadra, e non me l'aspettavo la vittoria a Verona, è una squadra tosta, una squadra dura da affrontare. E il Napoli, questa partita, arriva con alcune defezioni importanti, Osimen, Fabian Ruiz, Di Lorenzo. Quindi l'Atalanta deve e dovrà sfruttare, se vorrà rimanere agganciata al discorso Champions League, dovrà vincere questa partita. Secondo me il peso specifico, la pressione maggiore, da un lato ce l'avrà l'Inter e dall'altro lato ce l'avrà l'Atalanta. Secondo me, come fondatore di rubrica rossinera. Fatemi sapere, amici, di rubrica rossinera cosa ne pensate di questo weekend di grande calcio. E poi, come sempre, aspettiamo le partite e nei prossimi giorni, martedì, faremo un'analisi globale insieme della Serie A.